Dolore a Biancavilla per il tragico incidente che questa mattina ha provocato la morte di un ragazzo di 17 anni, Vito Lanzafame. Il ragazzo era la guido di uno scooter un'Aprilia 125, con lui a bordo un altro ragazzo suo coetaneo. I due giovani stavano andando a scuola ad Adrano, quando, per cause ancora in corso d'accertamento, sono finiti fuori strada. Per Vito Lanzafame non c'è stato nulla da fare, il ragazzo è morto dopo l'impatto con il suolo. Gravi le condizioni dell'altro giovane, anche lui di Biancavilla, portato con l'elisoccorso al Canizzaro di Catania. Avrebbe compiuto 18 anni tra pochi giorni Vito. La sua morte lascia una città nello sconforto. Una tragedia immane per i familiari, per i genitori del ragazzo, figlio unico che questa mattina sono arrivati sul luogo dell'incidente. Erano le 8 circa. Vito, come tutti i giorni, stava andando a scuola ad Adrano, casco regolarmente indossato, così come il suo amico, in sella al suo scooter, stavano percorrendo quella strada quando si è consumato l'incidente. Non chiaro cosa sia successo. I carabinieri hanno posto sotto sequestro il suo scooter ed un'auto compattatore della nettezza urbana, che, secondo le prime notizie, pare stesse facendo una manovra per immettersi su una via che corre lateralmente a Viale dei Fiori. Non chiaro se Vito ha sterzato per evitare il mezzo, unica cosa certa, è che ha perso il controllo dello scooter ed è morto. Sul luogo dell'incidente, questa mattina, sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò e i militari dell'arma delle stazioni di Biancavilla ed Adrano, insieme ai vigili urbani del Comando Cittadino. Per permettere i rilievi affidati alla Polizia Municipale, la strada è rimasta percorribile a senso unico alternato. Per l'indagine penale, nel accertamento di eventuali di responsabilità, stanno invece indagando i carabinieri. La salma di Vito Lanzafame è stata consegnata ai familiari. Un ragazzo dal volto pulito, quello di Vito, di lui, questa mattina su Facebook, a lasciare un ricordo l'oratorio Don Pino Puglisi di Biancavilla, del quale Vito faceva parte e all'interno del quale aveva vissuto momenti di gioia e di fraterna amicizia.